Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Finalmente vi posso parlare di un dispositivo per la pulizia del viso perché in tantissimi anni che sono su youtube la domanda più gettonata che mi avete sempre fatto era quella che volevate un consiglio su quale prodotto per la pulizia del viso quindi quale dispositivo era migliore, qual era un prodotto buono, qualità consigliaci qualcosa e finalmente adesso che ho trovato qualcosa di davvero buono sto qua per consigliarvelo e soprattutto per farvi vedere come funziona eccolo ragazze, è il Foreo Luna Mini, guardate com'è carino la cosa bellissima è che è rosa ed è troppo carino, io lo adoro poi la cosa bella è che è piccolino, quindi è molto maneggevole anche per portarvi dietro, magari se andate fuori o comunque lo mettete in borsa è veramente carinissimo, comodo, pratico e super fashion comunque c'è di diversi colori, sia anche azzurro, è anche molto bello comunque vi lascio il link del sito nel box informazioni, così potete visitarlo è davvero bello, io da quando lo uso sto vedendo dei benefici sulla pelle cioè la pelle è più pulita, soprattutto più luminosa cosa che non mi succedeva da un sacco di tempo con meno impurità, quindi meno punti neri, meno imperfezioni e la pelle è molto più luminosa e pulita, quindi secondo me ne vale la pena ogni tanto utilizzarlo, poi la cosa bella è che si carica con il filo che c'è già all'interno e lo carichi una volta e ti dura tantissime ore cioè quindi praticamente lo carichi solo una volta e me più e te lo porti sempre dietro e non si scarica mai, dovrebbe durare tipo 7 ore quindi tantissimo poi un'altra cosa che mi piace ragazzi è che è super igienico a me quelli vecchi, di vecchia generazione, erano un po' diciamo antigenici invece questo qua si lava anche sotto l'acqua, si può bagnare anzi adesso vi faccio vedere se usa proprio bagnato quindi lo trovo molto igienico, è completamente in silicone, è super morbido anche molto molto carino, non si devono cambiare setole nulla quindi è molto veloce e pratica questa cosa e poi la cosa bella è che si possono anche cambiare le velocità qua si accende e qua c'è più o meno per cambiare l'intensità da un lato fa una pulizia molto più profonda quindi perfetto perché ha una pelle grassa e mista e vuole quindi combattere i punti neri, le impurità da un altro lato perché ha la pelle più sensibile adesso ve lo faccio vedere all'uso perché su Instagram ho postato una piccola story e tante mi avete detto sì sì faccio il video quindi sto qua per voi ragazzi per farvi un tutorial e quindi è come qua struccata, come mamma aveva fatto urenda, bruttissima allora questo qua si usa con un detergente adesso vi faccio vedere ho solito utilizzare olio detergente della SkinClaire questo qua di Dottor Organic di cui vi ho fatto il video ho fatto proprio il video su brufoli, punti neri vi ho parlato di tutta la linea SkinClaire andate a vedere sempre qui su YouTube oppure questo mi piace tantissimo questo è il 3 in 1 Lipo Gel Multi Action di Alchemilla e ovviamente li potete trovare su www.caritashop.com su mio shop online, tutti i prodotti che vi mostro tranne questo qua che trovate sul sito appunto Foreo comunque vi lascio il link anche di questo nel box informazione così ci avete tutto sotto mano questo qua è anche uno struccante oltre che detergente, mi piace tantissimo lo metto sul viso ovviamente quando fate la pulizia un Foreo Luna Mini il vostro viso deve essere struccato e pulito perché voi state facendo una pulizia non è che vi state struccando quindi già dovete essere struccate mi raccomando poi lo bagno l'ho proprio bagnato l'ho proprio messo sotto il lavandino ragazzi l'ho bagnato c'è fiegata assurda e adesso inizia a vibrare ho cliccato e inizia a vibrare tipo un vibratore no vabbè scherzo però vi giuro che è bellissimo a parte che il massaggio è super rilassante quindi è molto piacevole non è una sofferenza assolutamente anzi io adoro poi i massaggi quindi mi piace tantissimo vado anche nei punti più profondi tipo su naso e laterali sulla zona T un massaggio rilassante ti purifica la pelle guardate come il detergente man mano diventa cremoso perché questa è una figata sto detergente è buonissimo per pulire tutto strucca e pulisce anche è bellissimo veramente è anche dei principi nutrienti idratanti quindi perciò mi piace così penetra man mano che lo massaggio scegliete anche un buon detergente così man mano che massaggiate penetra anche nella pelle ecco qua bastano uno o due minuti ragazzi io dato che mi piace ci sto anche un po' in più vi dico la verità però sul sito andate a vedere c'è scritto che uno o due minuti bastano e lo potrete fare una volta a settimana un paio di volte a settimana io anche una volta a settimana veramente funziona benissimo subito vedo la pelle più luminosa tonificata e con meno impurità se lo usate con costanza vedete migliorarla poi ovviamente dovete usare anche prodotti buoni però anche usando prodotti buoni bio naturali una botta di questo qua ogni tanto per pulire la pelle a fondo ci sta ragazze e illuminarla perché a volte con questo grigione invernale è opaca non lo so invece così si illumina come se date vigore al viso e portate tutte le sostanze al microcircolo quindi riattivate tutta la circolazione comunque adesso lo giro dall'altro lato dove si fa la pulizia più profonda e vi giuro che è veramente efficace è top io lo adoro quindi massaggiato un po' così e vado a sciacquare clicco di nuovo qui ok lo sciacquo questo qua lo sciacquo ogni volta sotto l'acqua e mi sciacquo il viso grazie il viso è completamente pulito che meraviglia c'è la pelle più luminosa ed è morbida poi io la sento pure più turgida e compatta non so come spiegarvi a volte il viso è un po' svuotato afflosciato come se si rassoda i zigomi sono un po' più turgidi comunque a me piace tantissimo fatemi sapere voi se lo provate come vi trovate adesso ne metto la crema e come crema viso sto usando questa qua di Dr Organic al cocco la adoro c'ha un profumo veramente divino non divino però un profumo bellissimo ed è una crema che è bellissima è super idratante è profuma di cocco quindi vabbè io la uso un po' dappertutto la metto anche sulle mani è bella è una bellissima crema e faccio un bel massaggio quindi per completare la mia pulizia del viso ragazze che adesso ho tutti i pori aperti con quello con il foreo quindi penetrano bene tutti i principi attivi anche sul collo adesso ragazze mi sento già più bella mi vedo una pelle molto molto più bella mi piace tantissimo appena lo faccio l'effetto si vede subito però comunque fatto con costanza si vedono proprio veramente i risultati quindi io ve lo straconsiglio il foreo l'una mini due è veramente bello comunque adesso per completare la mia trasformazione d'accesso a bellissima mi sa che ho bisogno di un po' di trucco perché non basta ok c'è una bella pelle è una buona base perché bisogna avere una pelle pulita e bella prima di truccarsi il trucco non deve servire per andare a coprire i brufoli le impurità le imperfezioni questa cosa ve la dico sempre cercate di curare la vostra pelle ecco con prodotti buoni facendo una pulizia ad esempio con questo strumento di pulizia del viso mangiando anche bene bevendo anche mult'acqua insomma fate tutte queste cose per garantirvi una bella pelle di modo che il vostro trucco deve servire sì un po' per coprire un po' di occhiaie per dare un po' di colori al viso ma anche per mettere un bel rossetto un po' per esprimersi truccarsi ma non necessariamente per coprire una pelle brutta perché dobbiamo migliorare la buona pelle dobbiamo avere una buona pelle il trucco deve esaltare la nostra pelle non deve coprirla quindi questa è una cosa importantissima però un po' di trucco ci vuole perché comunque è così insomma spavento un po' la gente quindi adesso mi trucco e torno tra voi eccomi ragazzi allora con le collanine Carlita Giuri sono troppo belle Luna e le stelline mi piace il mio look il mio make up prometto che presto mi comprerò la toilette ragazzi quella là per truccarmi vi farò tanti video di come mi trucco di come mi preparo con voi però adesso poiché che non ce l'ho ancora almeno vi dico i prodotti che ho utilizzato così magari andate più spedite se li volete acquistare come correttore io uso questo qua di Alchemilla che mi piace tantissimo pure in stick troppo troppo bello io lo adoro e mi copre benissimo le occhiaie e lo uso anche per le imperfezioni o meglio per le imperfezioni io uso questo qua verde che praticamente sarebbe il numero 5 se non ero sempre di Alchemilla lo uso sui brufoletti oppure sui rossori ad esempio qua ai lati del naso ma anche sui monti neri poiché è naturale non mi va a creare irritazioni impurità a volte i correttori i fondotinta con i lasi siliconici comunque tradizionali più le metti sulle imperfezioni più ti aggravano le imperfezioni questo poiché è naturale anche dei principi all'interno anti impurità ve lo straconsiglio da mettere sui brufoletti copre benissimo e sui rossori e poi dopo però ci metto anche questo qua sopra per uniformare e poi il fondotinta tasto dolente come fondotinta bio che spesso me lo chiedete Carlita consigliaci un fondotinta bio naturale però coprente allora io ho inserito questo qua sul mio shop dopo che ne ho provati tanti perché è veramente uno dei migliori in assoluto che c'è al momento di fondotinta bio lo trovo coprente ma non occlusivo non unge la pelle quindi va bene anche se avete la pelle mista e grassa tutto è compatto quindi ha una buona coprenza e viene poi in un pack troppo carino perché è super elegante e c'è anche lo specchietto vedete quindi ve lo potete portare dietro la cosa bella è che lo potete applicare o con un pennello o con una spugnetta o con una beauty blender ma anche con le mani o spesso con le mani lo metto è compatto ma non è polveroso come dirvi è cremoso e si fissa bene non unge comunque ve lo straconsiglio vi consiglio di provarlo io ne uso nella colorazione due ma c'è anche più chiaro più scuro due è la media anche tre comunque va bene sono molto simili uno è un po' più chiaro e poi c'è il quattro che è più scuro provatelo perché è buonissimo ha degli ottimi ingredienti e se usate un fondotinta buono anche contribuisce a farvi una bella pelle senza impurità comunque non ha siliconi e non ha paraffine è completamente naturale lo dico sempre ragazzi usare un buon fondotinta senza siliconi senza paraffine è una delle prime cose per avere una buona pelle senza impurità ragazze completando ho usato la mia palette questa qua che ho composto io di Alchemilla e vi dico sempre voi quando andate sul mio shop dite ma dov'è la tua palette la dovete comporre voi questa di fuori è molto carina e costano poco costano tipo 4 euro e poi ci mettete gli ombretti dentro che potete mettere questi di Alchemilla ma anche di altre marche sono comunque calamitate le palette si tolgono si estraggono e si mettono dentro è molto molto carina sono di 4 colori questi qua per fare questo trucco nude molto bello vedete questi colori sono bellissime tutti gli ombretti di Alchemilla sono belli sono super pigmentati e scriventi io questi qua li adoro c'è anche un marrone matte comunque vi metto i link dei nomi precisi nel box info matita sopracciglia di Nabla io uso la brown divine venus mi piace perché come sapete da un lato colora e da un lato c'è un pettinino per pettinare le sopracciglia per finire ragazze la mia palettina che mi sono composta io anche questa qua questa è di Nabla e qua ci ho messo il blush di Nabla che io adoro questo qua lo uso sempre è un po' aranciato e poi questo qua io come illuminante uso questo di Nabla che si chiama questo si chiama Obsexed ed è bellissimo un illuminante stupendo e il blush si chiama Habana comunque sono belli e trovate tutto su Caleta Shop sulle labbra ragazzi ho messo il mio amore del momento che è questa qua Lip Kit Grace sempre di Nabla dove ho messo la matita sul contorno e sulle labbra Grace fa un effetto volumizzante un nude però un po' più scuro la adoro letteralmente poi sui capelli ho usato i miei due prodotti magici allora il fluido nutritivo questo qua per capelli mossi di maternatura lo adoro e questo sul mio shop online è uno dei più venduti perché veramente serve tantissimo per disciplinare i capelli mossi e ricci toglie l'effetto crespo e profuma un sacco e poi è bio e naturale quindi nutre anche le punte secche eccetera e poi il mio amore grande cristalli liquidi naturali di Alchemilla questi qua profumano al cocco e servono tantissimo per fissare la piega tolgono l'effetto crespo sono tipo una cremina bellissima profumata al cocco li adoro comunque questi due assieme sono la vita poi tocchissimo finale questo qua uno spray fissativo per capelli alla rosa questo qua praticamente lo vaporizzo a piega finita e questo va bene sia per capelli lisci mossi qualsiasi tipo di capelli serve per illuminare i capelli fissarli leggermente senza seccarli senza indurirli assolutamente e profumarli tantissimo perché profuma alla rosa un misto fra rosa e vaniglia e profuma tantissimo i capelli quindi anche se non le avete proprio pulitissime piccolo segreto per non far sentire la puzza dei capelli ragazzi questo è tutto io sono stata contentissima di aver fatto questo video di aver passato questo momento assieme a voi lasciatevi un bel like se vi è piaciuto il video mi raccomando andate sul sito foreo luna mini 2 vi lascio il link nel box info e mando un bacio grande 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 ciao e buon natale penso che questo sarà l'ultimo video prima di natale o forse ce ne sarà un altro domani beh comunque io vi amo vi amo tanto ciao ciao ciao